Tante le novità di questa nuova stagione per la campagna abbonamenti del Teramo che racchiudere in due minuti dopo averli esposti in mezz'ora facile non è? No, facile non è, però noi puntiamo molto sul discorso della campagna abbonamenti perché abbiamo dati, come abbiamo già esemplificato durante la conferenza stampa, che ci inducono ad essere ottimisti, sia relativamente al discorso del numero di tessere vendute negli ultimi tre anni, che in costante crescita da un triennio, siamo arrivati a 611 abbonamenti nel corso dell'ultima stagione, e chiaramente l'obiettivo, come ha ricordato giustamente bene il Presidente Luciano Campitelli, è quello di migliorarsi, anche solo di una tessera rispetto all'ultima stagione sportiva, ma di migliorarsi perché significherebbe confermare un trend di crescita, di crescita nell'ultimo triennio, che sarebbe a questo punto automaticamente quadriennio e quindi significherebbe anche che la passione a Teramo per questi colori è una passione che è in costante aumento, è una passione viscerale, è una passione anche numericamente rilevante, come è testimoniato anche dalle presenze medie allo stadio nell'ultimo quadriennio, che anche in questo caso appunto mostra segnali molto confortanti. Ed è sicuramente molto positivo apprendere il fatto che l'ufficio marketing, che poi è una componente importante di qualunque società, non solo calcistica, sia in ulteriore crescita, no? E ci siano segnali che dicono con molta chiarezza che il Teramo Calcio, credo abbia compreso a 360 gradi, qual è lo sviluppo vero di un club. Assolutamente sì, d'altronde il presidente Capitelli nasce un po' dal marketing al commerciale, quindi lui ci crede in modo particolare, è una struttura quella dell'area marketing e comunicazione a termo calcio che è in crescita, ringrazio naturalmente Marco Volponi che è il nostro addetto marketing e che si è occupato insieme naturalmente a me del discorso della nuova campagna abbonamenti che prevede diverse agevolazioni, diverse facilitazioni, un po' per tante categorie, quindi dal ridotto, dalla tariffa universitaria, dal discorso relativo anche ai disoccupati, ai club, quindi abbiamo cercato di racchiudere un pochino tutte le categorie di competenze e vi invito naturalmente a verificarlo nella sezione biglietteria del nostro portale www.teramocalcio.net. Grazie a tutti!